Bene, eccoci qua, oggi è il 7 ottobre 2011 e c'è Francesco sul trattore dell'azienda agricola Cavani, gentilmente offerto, sembra che stia molto attento a quello che succede Eccoli, sono passati Eccoli a tutti, veramente gentile, il signore dell'azienda agricola Cavani che ha consentito questa esperienza a Francesco E sarà molto contento perché da tutto il giorno che con questi trattori, questi trattori, voleva andarci sopra, ci siamo riusciti